Ma quello che accadrà lo vedremo, saranno le pagine di questi giorni che saranno scritte da chi come me si sta cercando di adoperare per il bene comune che è quello della città di Natina. Io credo che oggi forse sarà dato una grande attenzionanza di maturità e credo che sulla base di questo si possa cominciare a ragionare finalmente per creare i presupposti per 12 mesi di governo all'interesse dei cittadini.